Buonasera, buonasera a voi. Allora inizio da questa incredibile figuraccia da parte di Matteo Salvini. Non che ci sorprendano più le figuracce che sta facendo in questi ultimi anni Matteo Salvini, che continua a dimostrare tutti i suoi limiti come politico, ma oserei dire anche come uomo. L'abbiamo sempre detto, è stato bravo nel ottenere il consenso, nel far sì che la Lega riuscisse sempre più a conquistare posizioni per quanto riguarda i partiti politici nel nostro paese, tanto di essere il primo partito in Italia quando ha raggiunto il 34% alle elezioni europee. E ora sappiamo, insomma, è di fronte a un crollo proprio per quello che si è dimostrato, e si sta dimostrando come politico, ma io oserei dire anche come uomo a questo punto. E' la cosa che veramente mi lascia stupefatto, che la Lega non abbia ancora posto un freno a quest'uomo e di conseguenza alla discesa della Lega stessa. Allora io lo dico ai miei cari amici leghisti, cioè non riconoscere questo, continuare a dire Salvini non si tocca, Salvini il migliore, Salvini il capitano, cioè voi capite che vuol dire non voler guardare in faccia la realtà. Oggi cos'è successo in pratica? E' andato in Polonia, e precisamente alla frontiera tra Polonia e Ucraina, dove è stato accolto, si fa per dire, dal sindaco di questo paese, dove lui si è fermato, che praticamente ha organizzato una specie di conferenza stampa, non lo so, all'aperto, con questo microfono, e a un certo punto ha tirato fuori una maglietta, maglietta che usava, se vi ricordate, qualche anno fa Matteo Salvini, quando diceva meglio un Putin che due Mattarella, no? e gliel'ha fatto chiaramente notare il sindaco di questo paese dicendo che lui non aveva il piacere di accoglierlo e non voleva avere nulla a che fare con lui. Ecco, non so quanti sono riusciti a vedere questa scena, ecco, guardate, se vi ricordate la scena di Salvini quando l'aveva preso a schiaffoni, Conte, ecco, è identica, la faccia è uguale come il bambino che è stato preso con le mani nella marmellata che è assolutamente sorpreso perché non si aspettava tutto questo, perché vuol dire che non si prepara neppure, non si pone neppure il problema di quello che potrebbe succedere, ecco, la faccia era quella. Quindi, ancora una volta, una figura di M che tra l'altro farà il giro di tutta Europa, io devo davvero dire con questa ultima figuraccia come politico Salvini è totalmente out e io mi auguro per la Lega, per il centrodestra, tutto, che la Lega a questo punto prenda dei provvedimenti perché veramente è incredibile. Non è che me ne importi molto perché, voglio dire, ormai lo sapete, mi sto sempre più allontanando da quel mondo e sempre più convincendo che l'unica speranza è un movimento di azione popolare fatto unicamente da patrioti italiani. E veniamo alla seconda notizia. Ora, guardate, e questa è una notizia che non posso dire che per carità è passata sotto silenzio, ma pochi si stanno soffermando su una notizia molto importante. Ora, Denis Kureyev, un banchiere importante che era seduto, se andate a vedere le immagini di questi giorni alle trattative che ci sono state in Bielorussia con i russi, era uno di quei quattro personaggi che erano seduti al tavolo confrontandosi con i russi. Ebbene, sembra ormai ufficiale, sembra una notizia sicuramente non da verificare o addirittura ancora peggio una fecchia. È stato ucciso dai servizi segreti dell'Ucraina per alto tradimento. A parte che questo di solito non era mai successo perché di solito le spie è difficile che vengano uccise, ce l'ha detto oggi un esperto di queste dinamiche che è Dario Fabri, che sottolineava il fatto che di solito si utilizzano come scambio tra spie. E il fatto che l'abbiano ucciso così in poche ore è un fatto singolare. Ma c'è poi un altro aspetto da sottolineare. Una domanda. Ma che poi questo apparato che sembra così unito, così perfetto del governo ucraino, in fondo non sia così? Perché voi capite che è clamoroso, è incredibile che un uomo, che è una spia, possa essere arrivato a sedersi al tavolo delle trattative insieme ad altri tre compagni e a fare questa trattativa con i russi. Sembra veramente inverosimile. C'è qualcosa che francamente non quadra. Intanto la guerra sta andando avanti, purtroppo, dico io, c'è qualche apertura. Vi volevo parlare stasera di quelle che saranno le proposte, lo farò domani, chiaramente, di quella che potrebbe essere una possibile intesa e anche quello che è emerso oggi Zelensky sta iniziando a mostrare qualche piccolo cedimento. Ma di questo magari ne parleremo domani. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.